Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 107esima puntata del podcast di Marcos Box. Sigla! Per la serie Chi non muore si rivede, ma chi non si rivede non è per forza morto, rieccoci qui con questa nuova puntata del podcast di Marcos Box. A quasi, no, oggi è proprio un mese esatto esatto dall'ultima puntata, dall'ultimo episodio. Come vi avevo anticipato nello scorso episodio, c'è stata una piccola pausa dovuta a cause di forza maggiore, mancanza di tempo principalmente, che mi ha impedito di registrare nuove puntate del podcast, ma anche da dedicare del tempo al blog. Come avete avuto modo di vedere, le notizie si sono molto rallentate in questo ultimo mese. Però adesso ricominciamo, ricominciamo in piedi regime e vediamo di commentare queste notizie di questi ultimi 15 giorni, perché sono praticamente 15 giorni circa che ho ripreso a postare sulle pagine del blog. Apriamo questa puntata con una notizia che ha fatto storcere il naso a molti di voi che l'ascolto, ma non solo, perché si è fatto molto parlare di questa notizia e molti utenti non hanno gradito questo cambiamento. Che è successo? È successo che la community che mantiene Mangiaro Cinnamon, l'edizione community appunto di Mangiaro con Cinnamon Desktop Environment, ha deciso di cambiare browser predefinito e di fornire con la propria ISO niente poco di meno che Vivaldi. Vivaldi lo conoscete, quel browser web nato dalla mente di uno degli ex creatori, ideatori di Opera che ha alcune caratteristiche davvero particolari e che diciamo è proprio l'erede spirituale delle prime versioni di Opera, per chi come me si ricorda le prime versioni di Opera, quelle che avevano anche un client email, avevano tante di quelle funzionalità innovative che diciamo così li distinguivano dalla massa. L'integrazione, devo dire, però è stata fatta bene perché c'è stato un lavoro intenso, da parte del team di Mangiaro Cinnamon e del team di Vivaldi, per offrire un'esperienza out of the box davvero interessante, con anche un tema che si abbina perfettamente al tema del sistema di Mangiaro Cinnamon, quindi con lo schema colori, la palette colori che trovate quella dark, che piace tanto agli utenti di Mangiaro Cinnamon. La modifica, come vi ho detto, interesserà comunque soltanto l'edizione di Cinnamon e soltanto le nuove installazioni, quindi chi aveva una vecchia precedente installazione di Mangiaro Cinnamon non si ritroverà Vivaldi installato in maniera automatica, con gli aggiornamenti di sistema, ma dovrà andarlo a scaricare. Ora adesso non ci resta che capire quali saranno gli ulteriori sviluppi, se magari ci sarà un ripensamento, non so se vi ricordate il caso Free Office all'interno di Mangiaro, o magari se anche il team di Mangiaro, quello principale, quello che rilascia le edizioni principali di Mangiaro, deciderà di fare il grande passo per le edizioni principali. Non ci resta che aspettare. Chi vivrà, vedrà. Ah, e comunque se siete più curiosi sulle origini di Vivaldi, vi ricordo che su Marcosbox è presente l'intervista che è stata fatta ai tempi proprio della nascita di Vivaldi, ai creatori di Vivaldi, quindi si parlava anche delle idee future, di quello da includere e quant'altro, del perché è stato creato questo browser, eccetera eccetera. Quindi se siete curiosi andate su Marcosbox e cercate l'intervista a Vivaldi, la trovate anche cliccando sul tag Vivaldi all'interno di questa notizia, quindi andatevi a spulciare le notizie, andate a vedere i vecchi articoli che non fa mai male, perché in passato ho anche pubblicato una serie di interviste ad altra gente, ad altri sviluppatori, che vi avrebbe piacere anche riportare in vita questa rubrica, vediamo se nei prossimi mesi riusciremo a fare, riuscirò anzi, a fare qualcosa perché ormai sono da solo su God. Per la gioia di grandi e piccini è stata rilasciata la prima beta di Ubuntu 21.10, nome in codice, Impish Indri, che non riuscirò mai a pronunciare correttamente per via di quella maledetta R. Vabbè, sapete bene, il rilascio di Ubuntu 21.10 è previsto in forma stabile per il prossimo 14 ottobre, quindi ci sono 15 giorni al rilascio ufficiale. Il rilascio della beta significa che è quasi tutto pronto, quindi è possibile anche iniziare a testare su macchina reale, diciamo così. Io in passato non ho mai avuto grossi problemi in questa fase di sviluppo. Ovviamente non è stata rilasciata soltanto la versione beta di Ubuntu 21.10, quindi l'edizione principale, quella con Gnome, ma sono state rilasciate anche le beta dei vari frameworks ufficiali, quindi Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Kirin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e Xubuntu. Per fare le novità di questa nuova versione di Ubuntu troviamo il rilascio del kernel 5.13, GCC che arriva alla versione 11, Pulse Audio che arriva alla versione 15.0, BlueX che arriva alla versione 5.6, Network Manager alla 1.32.10, L'edizione principale offre Gnome 40 con alcune applicazioni migrate a Gnome 41, quindi il solito miscuglio che fa Canonica, che fa Ubuntu. Nella fattispecie, se non ricordo male, dovremmo avere soltanto a questo giro il calendario, il monitor di sistema e l'utility disco di Gnome che sono state migrate alla versione 41. Il resto è stato mantenuto tutta la versione 40. troviamo poi un nuovo tema di default, un tema chiaro perché il team di Ubuntu ha deciso di lasciare soltanto due versioni di Yahoo, la versione completamente chiara e la versione completamente scura, sono state fatte anche alcune modifiche al tema Yahoo sia nelle versioni chiare che nella versione scura, quindi sono stati rimasti per esempio quando andavamo a selezionare qualche albero del file manager sulla sinistra, le scorciatoie rapide, prima avevamo la tacchetta arancione, adesso non ce l'abbiamo più, adesso appunto abbiamo soltanto l'edizione quella completamente bianca, quindi con header bianco, non più quella mista, tra parentesi, era la versione che preferivo del tema Yahoo e poi abbiamo la versione dark che non so come fate a utilizzare quei temi scuri sulle vostre distribuzioni ma anche su Windows, forse su Mac è carina la versione scura del tema ma io su altre cose non riesco proprio a capire come fate, vabbè comunque sono io che odio i temi scuri e poi abbiamo l'altra grande novità, il rilascio, abbiamo praticamente Firefox che viene installato in formato snap per impostazione predefinita, sì molti di voi si sono già iniziati a lamentare quando hanno sentito questa notizia perché sapete bene che gli snap sono lenti, sono lenti soprattutto al primo avvio e questa lentezza si vede specie sul disco meccanico, su SSD ho visto che installandolo dal formato snap non ci sono grossi rallentamenti, è comunque sempre più lento della versione installata normale e che dire, oramai hanno deciso di fare questo passo che dovrebbe comunque garantire un rilascio più veloce nel tempo per quanto riguarda Firefox perché la versione snap di Firefox per Ubuntu sarà mantenuta, coadiuvata lo sviluppo dal team di Mozilla e quindi potremo ottenere adesso degli aggiornamenti di sicurezza direttamente da Mozilla in maniera più rapida, più veloce e sarà una versione diciamo di Firefox pura direttamente dalla fonte, speriamo che, anche che nel tempo riescono a velocizzare l'avvio delle applicazioni in formato snap, sono stati fatti grossi passi in avanti in questi ultimi anni però restano sempre alcune criticità. Non è tanto veloce attualmente nel rilasciare gli aggiornamenti di questa piccola, piccola onda di go, perché mi sono accorto che l'ho installata l'altro giorno sulla mia KDN, visto che comunque la minor release di Firefox non è stata, anzi non è stata aggiornata mi sembra che non è stata ancora aggiornata, almeno fino a ieri non mi era arrivato l'aggiornamento. Comunque speriamo che questa collaborazione in futuro porti buoni frutti per quanto riguarda per quanto riguarda Firefox su Ubuntu e speriamo che Canonica riesca a velocizzare tutte quante le applicazioni in formato snap. Lo so che voi odiate gli snap, tutti quanti odiano gli snap per via della volentezza, anche per via del fatto che su alcuni team hanno problemi a integrarsi al meglio però oramai Canonica si è fissata su questa strada e questo è il futuro che ci aspetta. Restando a parlare di Ubuntu, momento, 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 momento e gol! La Juve è appena segnato, dicevo, perché mentre sto registrando sottofondo la partita della Juventus Sono Juventino, sì, odiatemi pure Dicevamo, restando sempre in tema Ubuntu, c'è stato un editoriale di Luca che ha fatto un resoconto dei problemi, fastidiosi problemi a cui è andato incontro, a cui va incontro da utente Ubuntu Su Marcosbox trovate questo articolo, andatelo a leggere perché è interessante è un punto di vista da prendere in considerazione noi spesso, noi utenti, quelli più smanettoni, oramai siamo abituati ad avere problemi a risolvere problemi, però dobbiamo anche capire che se è un utente anche poi, perché alla fine Luca non è nemmeno un utente giovincello passatemi termine, perché sono oltre sei anni da quando ha iniziato a utilizzare Ubuntu come sistema operativo principale sul computer da lavoro, quindi è un utente navigato però ci sono dei problemi a cui va incontro, ci sono anche altri problemi a cui vado incontro io nonostante utilizzi Linux da ormai da secoli, passatemi il termine però ci sono diversi problemi a cui vado incontro, a cui continuo ad andare incontro problemi con i driver delle stampanti, problemi con i driver delle schede video che è ormai è un chiodo fisso su tutte quante le mie installazioni e problemi vari, anche una fattispecie di Luca sicuramente di problemi ad esempio per quanto riguarda la gestione delle cuffie e altre cose che andate a leggere all'interno dell'articolo e questo fa anche pensare nel fatto che le distribuzioni Linux si sono diventate più user friendly però continuano a dare problemi, continuano ad avere diversi scogli che sono piccoli per alcuni ma insormontabili per altri che poi fanno desistere dall'utilizzo di un sistema operativo open source come un Ubuntu, come un Amanjaro e quant'altro fatemi sapere voi che cosa ne pensate, magari lasciate un commento perché c'è stata anche una discussione interessante con svariati commenti sulle pagine del blog quindi andate a leggere e commentare passiamo adesso alla distro blu per antonomasia non è la distribuzione dei puffi, non è nemmeno la distribuzione della Pfizer ma sto parlando di Fedora Fedora Linux che ha visto il rilascio della versione 35 e beta questa nuova beta, questa prima beta della versione 35 di Fedora Linux offre diverse funzionalità di nota che vale la pena approfondire vale la pena anche testare se avete un spazio sul disco a disposizione fateci un pensierino provatela Fedora quali sono le novità? beh, adesso c'è il supporto per NVIDIA con X-Wiland il che significa che gli utenti che desiderano eseguire applicazioni che non dispongono del supporto Wiland nativo possono comunque beneficiare del supporto 3D con il driver NVIDIA è stato migliorato in questa nuova versione il supporto per applicazioni in terze parti e semplificata l'installazione delle applicazioni in formato Flatpak da FlatHub adesso abbiamo una serie di applicazioni in terze parti che è possibile installare direttamente dal software center di Gnome applicazioni come Zoom, Minecraft, B2Arden che adesso potete installare semplicemente senza andare ad abilitare FlatHub Gnome ovviamente in questa versione è stata aggiornata l'ultima versione disponibile di Gnome perché Fedora si segue i rilasci di Gnome Ubuntu no Ubuntu come al solito sempre restia a allinearsi con i rilasci di Gnome vabbè mannaggia a voi Ubuntu Dicevamo Fedora rilascia la versione 41 di Gnome non mancano ovviamente poi le consuete spin con desktop alternativi come KDE Plasma, XFSA, Mati, Cinnamon e quant'altro e l'altra grande novità vede l'arrivo di una nuova spin chiamata Fedora Kinoite che offre KDE Plasma basato sulla tecnologia RPM o STRI come Fedora Silver Blue Kinoite fornisce aggiornamenti atomici e un sistema operativo immutabile per una maggiore affidabilità vi invito a provare anzi questa qua Fedora Kinoite magari provatela soltanto se siete utenti esperti non credo che gli utenti a riprimermi possano apprezzare una distribuzione come questa le altre novità riguardano poi PipeWire per la gestione dell'audio che introduce questa nuova l'ultima versione che è stata aggiunta su Fedora 35 introduce Wire Plumber come gestore di sessione predefinito che consente la personalizzazione delle regole per il routing dei flussi da e verso i dispositivi ovviamente c'è il consueto aggiornamento dei linguaggi di programmazione delle librerie Python 3.10 Per 5.34 PHP 8.0 e quant'altro infine un'altra modifica sotto il cofano che gli utenti potrebbero apprezzare ma non notare immediatamente è il supporto per DNS su TLS questo significa che su Fedora 35 con Fedora 35 praticamente la distro tenderà tenterà sempre di inviare una richiesta DNS su TLS dove è possibile e quindi gli utenti che hanno scelto server DNS personalizzati che offrono la criptografia possono godere di una protezione aggiuntiva per quanto riguarda gli attacchi di rete passivi su Marcosbox comunque trovate maggiori informazioni su questa beta di Fedora 35 e il link per scaricare l'edizione principale Workstation con Gnome e le varie spin e ovviamente anche le versioni quelle minori tipo quella per IoT, quella per server, Fedora Alarms e la versione per ARM questa settimana è tornata ad aggiornarsi anche GIMP con un aggiornamento minore la versione 2.10.28 ovviamente è una minor release che va soltanto a correggere il bug anche perchè il team di sviluppo di GIMP è attualmente concentrato sta concentrando tutti i propri sforzi per la versione 3.0 di GIMP quindi abbiamo sviluppo del 2.99.x comunque c'è stato anche qualche piccolo miglioramento in questa nuova minore release di questa 2.10.28 e fra i miglioramenti troviamo un aumento delle prestazioni di GIMP su MacOS e Big Sur correzioni di errori per la versione di Windows nonché per svariati break-in ed è anche stata aggiunta una nuova funzione script-foo dirmake che permette di creare directory da script su MacOS box ovviamente trovate maggiori informazioni, trovate i link con i changelog e quant'altro quindi andatevelo a spulciare concludiamo questa puntata con una notizia che fa davvero piacere ascoltare ovvero della decisione da parte dell'Italian Links Society di sostenere economicamente lo sviluppo dell'applicazione CV Project e quindi di conseguenza il progetto Mozilla Common Voice capito? fa piacere ascoltare Mozilla Common Voice vabbè, smetto di fare battute cretine conoscete il progetto Common Voice di Mozilla è un progetto che ha l'ambizioso obiettivo di realizzare dei modelli vocali da distribuire in licenza libera e aperta in numerose lingue del mondo e per farlo raccoglie ed elabora i contenuti, i contributi di migliaia di volontari che donano la propria voce io ho anche donato la mia voce in passato per il progetto Mozilla Common Voice ogni tanto ci vado e vado a dare il mio piccolo contributo e l'Italia Linux Society ha deciso di donare di donare ben 2000 euro all'autore di un'applicazione chiamata CV Project un'applicazione per Android sviluppata da Saverio Morelli che praticamente non è altro che la versione mobile del portale Common Voice di Mozilla quindi mediante questa applicazione per Android è possibile interfacciarsi con il nostro account Common Voice convalidare registrazione, registrare frasi, segnalare frasi o registrazioni e poi ha alcune funzionalità interessanti come per esempio la modalità full-line che continua a contribuire anche quando non siamo... in modo da poter contribuire anche quando non siamo connessi a internet e vabbè, poi altre funzioni di internet devi alleggere tutte quante la scheda tecnica dell'applicazione e fa davvero piacere che un'applicazione del genere utilizzata praticamente da utenti che fanno parte del progetto Mozilla Common Voice che sono sparsi in tutto il mondo fa piacere che un'applicazione del genere sia stata sviluppata da un sviluppatore italiano e fa piacere vedere che l'Italia Linux Society contribuisce direttamente con i soldini che si sa che gli sviluppatori non campano di aria non campano di buone parole, di complimenti ma devono anche loro pagare le bollette quindi ricordatevi sempre di supportare i progetti open source che utilizzate e con quest'ultima notizia si conclude qui questa centosettesima puntata del podcast di Marcos Box vi ricordo come sempre che potete seguire il podcast di Marcos Box su Anchor, su Spotify, su Amazon Music, su Apple Music su Google Podcast mediante la skin per Amazon Alexa su TuneIn mi trovate praticamente ovunque sui principali piattaforme di distribuzione per quanto riguarda i podcast vi ricordo che potete seguire il blog di Marcos Box sia seguendo il sito mediante magari i feed rss che trovate ancora su Marcos Box sono uno dei pochi siti che i feed rss li mantiene sempre attivi quindi dovete farmi i complimenti per questa cosa potete seguirmi anche mediante le pagine social mi trovate su Facebook mi trovate su Twitter con il profilo privato ma anche con il profilo di Marcos Box org non Marcos Box senza org perché purtroppo c'è un disgraziato che il tempo che si è fregato Marcos Box ha fatto un solo Twitter io non riesco a ottenere quel nome ufficiale quel nick ufficiale su Twitter maledetto mi trovate anche su Linkedin con il profilo personale se volete dire che conoscete Marcos Box anche su Marcos Giannini anche su Linkedin e vi ricordo tra si che è disponibile un canale Telegram dove praticamente posto tutte quante le ultime notizie dal mondo di Marcos Box ma anche ogni tanto qualche cosa di meno seria anche notizie che magari non tratto direttamente su Marcos Box posto direttamente i link quindi se volete seguirmi anche su Telegram mi fa piacere vi ricordo che tra si che sono disponibili sempre su Telegram due altri canali i canali dei community di Marcos Box dove vi invito tutti quanti a iscrivervi in modo tale da poter anche trovare nuovi amici poter fare due chiacchiere non necessariamente del sempre di inerente il mondo Linux si può parlare di tutto io non banno quindi il cazzeggio libero è ovviamente sempre nei limiti della diciamo così della non invadenza altrui e quant'altro vi ricordo infine che è disponibile anche un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon di Marcos Box sapete bene come funziona l'affigliazione di Amazon se acquistate da uno dei link che posto su questo canale Telegram non solo un tipo spammone posto pochi articoli però acquistando da uno di quei link potete supportare il blog perchè una parte dei ricavi verrà devoluta da Amazon al sottoscritto sotto forma di buoni Amazon vi ricordo inoltre che potete comunque contribuire sempre a Marcos Box sia cliccando su banner di Amazon che vedete su Marcos Box quindi vi mette il referral link in automatico oppure se siete utenti più smaliziati utilizzando il referral link di Amazon Marcos Box meno 21 quindi se utilizzate questo link referral e acquistate al proprio modo da passare la macchia sentite la macchia io non lo so perchè io perchè so cos'è per stare con la finestra aperta che fu un caldo della madonna e continuano a passare veicoli di varia natura questa ho dovuto fare 70 volte la registrazione questa scrive via di tutti questi qua che devono passare con le marmitte sgasate e quant'altro vabbè mi sono diluncato troppo lo so mi odiate per questo lunga vita e prosperità a tutti quanti alla prossima ciao ciao